Diciamo così, non è mai successo che gli esseri umani si siano lasciati andare alla pura sopravvivenza. C'è sempre stato da qualche parte un fermento di, allora, superamento dell'esistenza, prima di tutto, superamento dell'esistenza, cioè una capacità critica dell'esistenza, senza la quale non c'è politica. E poi, in determinate circostanze, sotto determinate condizioni, la critica è diventata anche pratica, cioè è diventata organizzazione non soltanto di eliti intellettuali ma anche di massa. Questo secondo punto è quello che oggi è più difficile, però poi ne parliamo, non può essere, non è antropologicamente possibile che gli esseri umani abbiano cessato di desiderare di essere padroni di se stessi. Diciamo che ci sono molti modi per realizzare questo desiderio, finora si sono sperimentati i modi sbagliati, quelli che noi chiamiamo populismo, che è l'esatto contrario di ciò che è necessario, essendo necessario invece il rapporto pregnante tra critica e organizzazione, non ignoranza e rabbiosità. Ma comunque, in ogni caso, l'idea che non c'è davvero realizzata una palude di una entropia senza ritorno, questa è un'idea che ho, certo, sì. Io comincerei, Franco, se tu sei d'accordo. Io credo davvero in questo modo risposto alla prima delle tue sei questioni che mi hai mandato in posta elettronica. E io andrei avanti nel dire due parole sul metodo di questo libro, il metodo intellettuale con cui l'ho scritto. Cioè, la stragrande maggioranza delle riflessioni sulla democrazia oggi, sono tantissime, nella mia biblioteca personale ne ho degli scaffali, sono a opera di politologi che praticamente hanno un approccio normativo alla questione, cioè non hanno profondità di canto, non fanno storia o, se vogliamo, c'è anche qualche storico che però difficilmente ha gli strumenti poi per affrontare l'oggi. Si tratta invece di capire che noi siamo figli di oggi, quando parliamo di democrazia, siamo dentro a una traiettoria in tre tappe sostanzialmente. La prima tappa è delle quali dobbiamo avere un minimo di conoscenza, altrimenti non capiamo poi niente davvero. La prima tappa è l'incipit dell'età moderna. La democrazia, come ne parliamo noi, è un fenomeno moderno. La democrazia degli antichi è tutta un'altra cosa. Per dirla brevemente, la democrazia degli antichi è una parte contro un'altra parte. Il popolo è una parte, la parte dei molti poveri che è sempre in lotta contro i pochi ricchi. Per noi invece la parola popolo vuol dire tutti, questo tanto per dire la prima macroscopica differenza. Dobbiamo capire che quando parliamo di democrazia siamo all'interno delle logiche politiche della modernità, che sono logiche che hanno fondamentalmente queste caratteristiche. Prima di tutto non hanno più un punto d'appoggio fisso, cioè l'ordine politico non è più un ordine univoco. La Repubblica cristiana tramonta con le guerre civili di religione in Europa del Cinquecento fino alla metà del Seicento. Dio non è più il nome della pace ma il nome della guerra, quindi la politica non ha più il suo terreno tradizionale, quindi bisogna ripensarla ex novo a partire da qualche cosa che non era mai stato il fondamento della politica, cioè l'individuo singolo, cosa che invece ora viene necessaria sulla base anche delle emergenti soggettività borghesi. L'individuo singolo armato della propria ragione, anche questo non è mai stato detto in questo modo, anche un potente razionalista come Sant'Omaso non pensa che la politica sia costruita dalla ragione dei singoli, pensa che sia un ordine che è riconoscibile dalla ragione ma che ha una sua oggettività. Allora, un ordine, quello moderno, un ordine politico che non ha un unico fondamento condiviso, che ha la caratteristica di essere costruita dalla ragione e che ha la caratteristica di essere instabile. Poi sotto il profilo storico questo ordine è instabile perché contiene un fattore di dinamismo altissimo che è il capitalismo, che è un'enorme potenza ma ha anche un'enorme capacità di destrutturazione di ogni ordine politico, anche di quelli moderni, come sappiamo. Quindi la democrazia in età moderna sconta, deve scontare, non può non scontare questa sua origine, diciamo così, in un vuoto di oggettività e in un continuo tentativo di riempire questo vuoto con nuove oggettività. La prima non è democratica, la prima oggettività nuova della politica moderna è i soggetti. E dunque si può dire in qualche modo che la modernità comincia pensando se stessa come liberale, cioè liberale individualistica. Qui tanto Thomas Hobbes quanto John Locke, ciascuno a modo suo, hanno come idea di fondo che la politica la si spiega attraverso l'idea dell'individuo, del contratto sociale fra gli individui, attraverso la ragione della sottomissione a un potere sovrano rappresentativo che è più o meno assoluto. Ma insomma, è anche il grande sconvolgimento che traduce in pratica il razionalismo moderno e l'illuminismo, cioè la versione francese, ha al proprio interno delle fasi assolutamente democratiche. Ma come risultato, dopo finita la grande epoca napoleonica, come risultato ha in Francia e in Europa una serie di sistemi politici, quando va bene, di sistemi politici liberali, cioè fondati su un minimo di delimitazione del potere monarchico, sul fatto che c'è una Costituzione, che c'è un Parlamento eletto, ecco che ci sono dei diritti incomprimibili, ma ad esempio c'è il voto censitario, ad esempio non c'è nulla di Stato sociale. C'è stata una resa dei conti tra la borghesia e il principio monarchico, c'è stato un pareggio, ecco, il principio monarchico è stato costretto a venire a patti, ma insomma dentro si formano sostanzialmente ordini liberali, borghesi liberali, in cui il collante è da una parte la dinastia, che continua a essere un centro simbolico quantomeno della politica, dall'altra un concetto, anche questo di origine medievale, ma in questo senso tutto moderno, anzi nasce addirittura rivoluzionario, che poi diventa mainstream, il concetto di nazione, per cui abbiamo stati nazionali, costituzionali, liberali. Questo è il primo grosso esito di quell'origine moderna. Abbiamo un'origine moderna, abbiamo un primo grosso esito, che è questo che vi ho appena detto, e poi abbiamo dentro questo ordine, abbiamo il capitalismo che lavora, il capitalismo trasforma, la prima cosa che fa è trasformare i contadini in operari, il che vuol dire fa operare una rivoluzione, di fatto, una rivoluzione, uno sradicamento, un disorientamento, un'innovazione. Queste dinamiche sono viste con grandissimo sospetto dalla Chiesa, diciamo così, gerarchica, e al tempo stesso sono seguite con grande attenzione da alcuni spiriti cattolici estremamente capaci di lungimiranza, diciamo ad esempio la Mnetta, il grande nome è la Mnetta, e poi tutti gli altri. e quella rivoluzione sociale che è il capitalismo dentro lo Stato liberale è una rivoluzione sociale che consiste nel generare masse. Già alla fine dell'Ottocento la sociologia tranquillamente riconosce una novità, cioè che l'umanità non si presenta in Occidente attraverso l'individuo, ma si presenta attraverso le masse, e quelle masse sono le masse industriali urbane. Cioè il contadino cattolico tradizionalista è magari ancora maggioritario sotto il profilo meramente numerico, ma è minoritario perché non è nella testa di punta avanzante della storia politica. E poi ci sono i socialisti, che questo contadino cattolico tradizionalista che viene trapiantato in città a fare l'operaio in condizioni durissime, tra l'altro, di fatto viene organizzato dai socialisti di tutti i tipi, di tutte le razze, Ma insomma, questa organizzazione, come sapete benissimo, spaventa tanto i borghesi quanto la Chiesa. La Chiesa reagisce attraverso la rerum novarum, cioè attraverso un'abile apertura, e lungimirante apertura. I borghesi reagiscono in due modi diversi. Reagiscono attraverso il modo reazionario, cioè chiusura totale, vava beccarsi. Oppure reagiscono attraverso il modo liberale, democratico più avanzato, cioè giolitti. Non andiamo tanto niente. e le masse sono contese fra i socialisti, da una parte, i cattolici, un po' meno all'inizio, poi crescono e diventano molto importanti, ma all'inizio un po' meno, e i nazionalisti, cioè le destre borghesi, che fanno una grande operazione, cioè sostanzialmente rinunciano al liberalismo. per conservare ovviamente il meccanismo della produzione capitalistica e per conservare il controllo politico sulla società nazionalizzando le masse. Finora, qui di democrazia se ne vede poca, perché abbiamo nazionalizzazione delle masse da una parte e socialismo dall'altra. Il socialismo nasce antisistema. Poi ben presto si pone la questione della convivenza col sistema, ma insomma basti pensare che il primo deputato socialista italiano, Andrea Costa, si era a lungo interrogato se presentarsi alle elezioni, perché voleva dire presentarsi alle elezioni accettare il gioco borghese della rappresentanza. Per cui il socialismo nasce antisistema. La differenza tra riformisti e massimaristi non è una differenza di fuoriuscita dal sistema, questa la vogliono tutti e due, è soltanto una differenza delle modalità della fuoriuscita. Certo, c'è uno spazio anche per una democrazia liberale, però è uno spazio piccolo, perché poi questi stati nazionali ottocenteschi, costituzionali a impianto borghese non sono fatti per essere stati che ospitano la piena, integrale cittadinanza delle elezioni. Non hanno le strutture, non hanno la testa per pensare a se stessi come a qualche cosa di diverso da uno stato monoclasse. Sono stati che nascono monoclasse e si pensano a come stati. E quando c'è la guerra, la prima guerra mondiale, è questo stato quello che si impadronisce delle masse e le manda al fronte. Ecco, una situazione tragica, terribile, in cui davvero lo stato ottocentesco, ormai divenuto novecentesco, ma insomma è quello, dimostra tutta la propria efficienza, la propria capacità di comando. Perché muovere milioni di uomini, costringerli a quella guerra terribile, quella di trincea, eccetera, eccetera, è un'impresa, come dire, sotto il profilo dell'esercizio del potere assolutamente eccezionale ed è un'impresa che allo stato riesce e a tempo stesso che uccide lo stato. Perché quelle masse, quando la guerra finisce, sanno di non poter più essere contenibili vivibili dentro le strutture dello stato liberale, il sociomunismo. Intanto una parte di queste masse distrugge letteralmente uno stato che non era uno stato liberale, è il caso russi. E poi in Italia il fascismo è poi questo, il fascismo è il fatto che c'è, ci sono masse che diventano protagoniste della vita politica, sono masse nazionaliste, sono masse socialiste, adesso sono anche masse cattoliche, non si amano per niente gli uni con gli altri, cambia il sistema di voto, addirittura entriamo nel sistema proporzionale che rende il Parlamento incapace di produrre una maggioranza di fatto, il vecchio sistema liberal notabilare non funziona più, i liberali si spaccano, da una parte va con i fascisti, da un'altra parte va l'antifascismo con una parte di cattolici, che si spaccano anche quelli, e intanto i socialisti e i comunisti fanno una cosa a sexo, non sono nemmeno antifascisti, sono antisistemi. Bene, se noi prendiamo la carta geografica europea dell'anno 1939, prima o secondo periodo di vita, noi lì di democrazia, di fatto, non ne vediamo, tranne la Francia. l'Inghilterra è fuori dall'Europa, lo è geograficamente, lo è culturalmente, è la capitale dell'impero mondiale, si sente europea, gliene importa solo in negativo dell'Europa. Voi non trovate la democrazia. Sì, trovate la Svezia, dove c'è una democrazia molto conservatrice, anche gli stati destinati a essere ingoiati dai nazisti, non sono stati democraziani. La Polonia è uno stato di guerra. Quando noi facciamo la guerra, la Grecia, facciamo la guerra contro uno stato fascistorico, la democrazia non c'è in Europa, è sostituita dal totalitarismo di destra, sostanzialmente, o comunque dall'autoritarismo di destra, sostanzialmente, che sa maneggiare le masse. Certo, a modo suo, sa maneggiare le masse, mentre i liberali non ci sono riusciti, in caso, e hanno, non ci sono riusciti, hanno voluto salvare la borsa e hanno perduto l'animo. Questo è il momento. i poteri forti hanno rinunciato alla gestione diretta della cosa pubblica, l'hanno appaltata alle destre con l'illusione di salvarsi, perché da bravi liberali non davano poi molto peso alla politica, davano molto più peso alla proprietà privata dei mezzi di produzione. solo alla fine si sono accorti che se appalti la politica a qualcuno questa cosa ha un peso. Un peso che si rivolge anche contro la tua proprietà privata. L'idea di avere, perché poi, il punto è questo, l'Atlantico è stretto. Ecco, avere di fronte della trasponda dell'Atlantico un impero nazista che si affaccia sull'oceano vuol dire per gli Stati Uniti sentirsi soffocati in una gabbia. Se poi dall'altra parte ancora c'è pure l'impero giapponese che si affaccia dall'altra parte, la loro mostruosa capacità di espansione economica ed egemonica è tarpata. Cioè, sono davvero un iso e loro non lo possono sopportare. Da cui, tra parentesi, il mio scetticismo sull'ipotesi che Trump abbandoni l'Europa. Ma lasciamo stare. E certo, sono gli americani che danno la possibilità a quel che era rimasto non tanto delle vecchie elite liberali che, come sapete, sono state fatte fuori subito nel dopoguerra, non hanno più avuto spazio, ma a quelle idee liberal-democratiche che invece qualcuno aveva conservato di avere dato il modo di realizzarsi in istituzioni una volta tanto democratiche. Cioè, se noi leggiamo lo statuto albertino e leggiamo la nostra Costituzione ma sono due mondi non cammini anni luce. Cioè, quella là è una carta ottroaie dove c'è un re per grazia di Dio che regala uno statuto ai cittadini. Qui c'è un popolo che si libera da una dittatura certo attraverso le armi americane ma insomma con un gesto teorico politico e anche simbolico com'è la Costituente prende la parola un popolo composito che non si fa dettare la Costituzione da nessuno se la dà da solo ma c'è una differenza enorme e poi c'è un popolo che dice l'inizio e l'origine della politica è in un conflitto contro il totalitarismo fascista da una parte e l'inizio e l'origine è nel fatto che per la prima volta noi diciamo che la finalità della politica è l'articolo 3 della Costituzione cioè liberare l'uomo dal bisogno cioè da tutto ciò che gli impedisce di fiorire che è una cosa fantastica ed è una cosa che è nuova non è che ce l'hanno dettata gli americani noi non siamo i giapponesi a cui il generale McArthur ha scritto la Costituzione ce la siamo scritti da soli ma certo le forze politiche che l'hanno fatto non erano certamente le forze politiche prefasciste nemmeno Benedetto Croce che pure capiva le cose poter guidare questo processo questo processo l'hanno guidato i segretari dei partiti di marzo il contenuto di questa democrazia non poteva essere che sociale e questo contenuto sociale era sostenuto dal paradigma politico innescato a Bretton Hood diciamo così quasi che innessiano cioè il grande nemico è la disoccupazione l'economia può e deve essere mista è dentro una struttura statale non esiste la libertà di circolazione dei capitali non esiste i capitali si muovono se si muovono delle merci altrimenti no e dentro il compromesso socialdemocratico